e ben a tutti e ben a tutti in questo video sono meo 007 e oggi siamo su gta 5 in compagnia di rod saluta bella e oggi andiamo a fare un po di missioni forse anche un po di casteggio ancora non lo so cominciamo da una missione ok ragazzi allora eccoci qui dobbiamo perlustare un'isola per trovare un elicottero che è precipitato e la vicino ci vorrebbero stare le scorte quindi una missione molto molto semplice però alla fine con quell'angar hanno messo solo missioni semplici perché mi ricordo col bunker era un po più difficile era un po più complicate ok allora ecco l'isola ok no sono due carichi quindi tutte e due ok ne vedo uno qua ma non c'è bisogno di scendere me lo da automatico guarda basta mi avvicino molto sì però ci abbiamo pure ok ok l'altro ok salve bella gente tanto bella no perché da quello che dice il gioco è la mafia poi se su gta non so che senti la mafia perché qua è america così 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 non fare aspetta uno più o meno ecco la mia povera auto ok ragazzi dai prima missione è andata benissimo fantastico ecco ok ragazzi allora io invece di fare una missione direi di fare qualcos'altro tu hai proposte che altro volessi fare tu che a me non mi va di fare altre missioni ragazzi abbiamo deciso di fare un tuffo nel passato e prendere la gandouette o almeno spero così si pronunci e fare una gara improvvisata e questa mi sa che non lo sapete però fu la mia prima auto ecco che pareva cornuto cornuto però pure via cornuto bastardo vabbè ragazzi stavo dicendo che sia stata la mia primissima auto che la spesi dalla strada era bianca e rossa me la ricordo ancora all'originale si mi rimase pressa perché fu la mia pre auto non avevo nemmeno il garage adesso ormai ho 5 appartamenti un ufficio il bunker e però comunque mi ricordo il mio poi anche mio primo garage che costava solo 20 mila dollari aspetti si ti aspetto dai tu io ti aspetto sempre vieni vieni grazie no 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 il mio progetto è saltato tutto no il mio progetto avevo tutto in mente voi spettatori miei avete visto tutto guardate guardatelo come corre solo perché ti ho aspettato e vince solo perché ti ho aspettato ho fame e mo e mo dobbiamo abbandonare il veicolo mi sa ma fa cuore ah raga mi sa che dobbiamo finirvi con i decidi ok ragazzi allora siamo finalmente arrivati in pratica alla conclusione del video perché guardate qui dove siamo quello che mi vuole ammazzare genio 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 poca roia genio sei ricercato no infatti io sto entrando pure aspetta dai aspetta facciamocelo a piedi l'ultimo ciao o eh oh aspetta ciao ciao no vabbè ragazzi io direi di concludere questo video catteggio qui con lui che mi uccide allora concludo qui il video vi chiedo di lasciare un like se il video vi è piaciuto e con il video per tutte le voti che farò ora a Romeo certo ma proprio quindi commentate iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video